Di Maio e Salvini chiedono altro tempo e Mattarella lo concede fino al massimo al lunedì prossimo ma la formazione del governo giallo-verde appare sempre più in salita. L'intesa sui nomi ancora lontana mentre sul programma si continua a discutere se non a litigare. Da poco a Montecitore è iniziato un nuovo round del comitato dei tecnici per trovare nuovi punti d'intesa e limare le differenze. Un lavoro paziente che chiede tempo, quello chiesto appunto al capo dello Stato. Poi c'è il rebus nomi a cominciare da quello del Premier. Ad oggi per serietà gli accordi un tanto al chino non fanno per me. E quindi spero di rivederci il prima possibile o perché si comincia o perché ci si saluta. Grazie a tutti. Il leader leghista scurinvolto alla loggia d'onore del Quirinale parla più alla base del carroccio, ribadisce l'unità del centrodestra soprattutto ora con la riabilitazione del Cavaliere che torna ad occupare un ruolo centrale anche in vista di un ritorno al voto. Discorso da campagna elettorale, quello di Salvini anche quando espone il programma con i punti cari alla Lega dall'immigrazione alla sicurezza al ruolo in Europa. La Lega alza la sticella come se volesse far saltare il tavolo. Io vorrei che fosse chiaro che se si inizia questo programma ci siano le risorse per poterlo effettivamente fare e che queste risorse si debbano prendere senza aggiungere una tassa in più. Anche Di Maio puntualizza i temi classici del repertorio grillino, dal reddito di cittadinanza alla lotta alla corruzione, al carcere per chi evade le tasse. Se parte questo governo parte veramente la terza repubblica, la repubblica in cui i cittadini fanno un passo avanti e i politici fanno un passo indietro. Grazie. Altra settimana di lavoro dunque, ma l'ombra del fallimento si avvicina e si torna a parlare. Il voto anticipato.